Il bisogno di sangue non va in vacanza. Donare il sangue è un gesto semplice ma prezioso che può salvare molte vite. Per questo faccio appello alla generosità dei piemontesi perché contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche nei mesi estivi. Il Consiglio regionale avvierà nei prossimi mesi una campagna sociale e una serie di iniziative in collaborazione con l'Avis Piemonte, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di questo gesto e per favorire il ricambio generazionale dei donatori, coinvolgendo in particolare i giovani. Donare il sangue è un gesto d'amore per il prossimo.